alunno 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 ma che andiamo a vedere perché c'è il bambino a un po' qui c'è ribadito uno, due, qui c'è ribadito non lo accorta però si a lei che è partito il frum è partito è partito il frumatore si 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 sai che ti scappa via non li prendi più eh anche Ivar c'è staccato partite che cazzo fate lì che cazzo fate lì a m mi mi ... mi Arriba, arriba! 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 Arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba, arriba! Arriba! Arriba, arriba! Adesso c'entro nuovo, dovremmo fare delle fattiche così Queste cose, non ci sono Se almeno contatti qualcosa a dimagrire Questa è quanto? Eh, contatti due marroni Devo fare 10 volte però Bisogna vedere cosa mangi oggi Questo che è Allora Allora mangi Stai in vento 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 No